La domanda di signorini infastidisce il web Grande fratello VIP, la domanda di signorini a Raffaello Tonon, il pubblico non approva. Appena uscito dalla casa del grande fratello VIP, Raffaello Tonon ha dovuto rispondere alle domande scomode di Alfonso Signorini. Lopinionista del reality show, nonché direttore di Chi, ha chiesto a Tonon se quello che prova per Luca Onestini è amore. Un quesito piuttosto piccante che ha subito sorpreso il pubblico. Ma non Raffaello che, con grande nonchalance, ha sottolineato di provare solo una grande amicizia nei confronti del tronista di Uomini e Donne. Un'amicizia profonda e sincera e soprattutto pura. La risposta di Tonon ha entusiasmato i telespettatori che, al contrario, non hanno apprezzato l'intervento di Signorini definendolo piuttosto inopportuno in un contesto del genere. La domanda scomoda di Signorini a Raffaello Tonon. Raffaello sei innamorato di Luca? Ha chiesto a Bruciapelo Alfonso Signorini durante la finale del grande fratello VIP. Epica la risposta di Tonon, sono innamorato della purezza di una persona di cui non puoi far a meno. L'opinionista di Barbara D'Urso ha poi rimarcato la splendida amicizia instaurata con Onestini. Il pubblico da casa ha molto apprezzato la replica di Raffaello e trovato inopportuno il gesto di Signorini che, forse, ha provato a cercare un coming out che non c'è stato. Da settimane più di qualcuno sostiene che Tonon sia gay ma a smentire il gossip ci ha pensato l'ex fidanzata Rossana. .